Ciao gente, benvenuti e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia e sì, oggi sono all'interno del mio armadio perché è arrivato quel momento di fare un cambio, un change, verso le cose un pochettino più autunnali, invernali. Sto girando questo video perché me l'avete richiesto nei commenti sotto altri video. So che comunque è un format che vi piace abbastanza, anche se in realtà per me registrare in camera è un casino perché non ho tantissimo spazio, poi ho un sacco di cose non in camera, in giro. Ho portato su gli scatoloni che ho giù in box con il cambio, quindi per quanto riguarda magari la parte felpe ve lo divido in due, ve lo faccio vedere in un prossimo video. Oggi volevo iniziare con l'armadio dei vestiti che come vedete è pieno ancora di tutte le cose estive, quindi togliamo un po' di questo colore, ahimè è arrivato quel momento. Magari vi faccio una panoramica generale di quello che devo fare con i vari armadi anche se in realtà non è chiaro proprio neanche a me ancora, visto che quest'anno per il cambio estivo ho cambiato un po', ho spostato delle cose che di solito non spostavo. Quindi vi faccio vedere un po' in generale quello che dobbiamo fare e poi come vi dicevo il video penso di dividervelo in due parti perché sennò diventa un video lunghissimo e poi è noioso. Io personalmente mi annoio a vedere i video troppo lunghi quindi preferisco dividervelo in due parti. Iniziamo appunto da questo armadio che è l'armadio dove tengo tutti i vestiti, vestiti lunghi, vestiti corti e qua ho tipo le cose per andare in spiaggia di solito comunque. Poi questo ve lo faccio vedere meglio nel video di oggi, vi stacco dalla ring rate e vi faccio vedere il resto. Sì lo so è un disagio, qui comunque ho maglietta, maniche lunghe, gonne, pantaloncini, quelle sotto sono estive, sono da togliere, top che dobbiamo vedere cosa togliere di estivo. Dietro ho un po' di felpe, felponi vari e là ho tenuto dei maglioncini. Qua sopra ho vabbè alcune giacche, alcune cose vecchie e dei vestiti invernali mi sembra che devo tirare giù. Perché poi l'altra metà di vestiti invernali l'ho messa qua che in realtà è l'armadio di mio fratello, però qua nell'angolino questi li devo tirar giù adesso e li metto nell'armadio sotto insieme a tutte le cose più pesanti, insomma con le maniche lunghe. Qui abbiamo un cassetto del disagio con i body e le magliette a mezze maniche, che però in realtà di solito non tocco, le lascio qua sia in estate che in inverno, perché queste le uso sia appunto in estate che in inverno. Questo invece è il cassetto, quello con tutti i toppettini e le canotte. In realtà lascio qua la parte delle canotte e invece di questi le lascio qua, alcune cose sono troppo estive quindi le porto in box, ma penso che lo vedremo in un prossimo video. Armadio dei jeans e dei pantaloni che in realtà non apro mai, cioè questo è l'armadio delle cose che metto meno, quindi in realtà ci sarebbe da fare un bel decluttering, ma non è questo il momento, magari lo faremo un pochettino più avanti durante l'inverno perché sennò veramente non me la cavo più. E questa invece è la pigna dei pantaloni, quelli che utilizzo, che sono accatassati qua su questo gradino, ma vorrei trovargli una posizione. Questa è la pigna dei pantaloni jeans, più che altro, che utilizzo maggiormente, che sta qua in bagno e sì, dovrei fare un decluttering di quelli di là e mettere questi nell'armadio. In questo cassetto ci sono un po' di cose varie, gonne di jeans colorate, gonne estive e cose che in realtà quest'estate non ho messo quasi per niente, quindi potrei pensare di spostarle da qua, che forse ho messo pochino qualcosa che c'è qua sotto, ma poco poco. Poi, altro cassetto, qua ci sono gli shorts di jeans e le camice, da questo lato, quelle che tengo piegate. Qui non so se tenerli qua o spostarli in box, visto il cambio stagione, anche se in realtà questi sono cassetti che non utilizzo tantissimo, perché qua davanti ho le pigne delle scatole di scarpe, quindi difficilmente li apro. Poi fanno fatica a chiudersi, ok. Altro cassetto, qua ho dei leggings sportivi che in realtà non utilizzo, perché le cose che utilizzo per andare in palestra, allenarmi, sono dall'altra parte in lavanderia, quindi questi potrei pensare di portare in box anche questi. Maglioncini vari e delle camice comunque che utilizzo meno, comunque utilizzo poco. In questo cassetto troviamo tutta la magia del Natale, perché è il cassetto dove tengo tipo tutti i maglioni di Natale, le calzine di Natale e poi qua ci sono delle gonnelline che utilizzavo quando ero piccola, ma che adesso non utilizzo più perché mi vanno un pochettino corte e una t-shirt. Comunque ci sono cose che non utilizzo. Ok, iniziamo ufficialmente, mi metto qua, vi faccio vedere dei vestiti e pensiamo insieme, ragioniamo su cosa se ne va per il cambio armadio, che cosa resta e se c'è qualcosa che non ho utilizzato e quindi lo declatteriamo, lo mettiamo in vendita su Vinted, se è nuovo, altrimenti lo regalo, lo do in beneficenza, ecco. Devo fare un attimo mente locale e capire dove mettere le cose, dove appenderle, perché c'è veramente un disagio. Ok, allora, iniziamo. Ah, è su ogni omino, io ho appeso tipo tre o quattro vestiti, comunque lasciamo stare, altrimenti non ci sarebbero mai stare tutte le cose che ci sono in questo armadio. Questo è un appendino dove ci stanno vari vestitini corti o comunque copri costumi, questo è un vestito di Hollister che utilizzavo esattamente quando avevo, penso, 15 anni, che però mi dispiace comunque eliminare perché ci sono affezionata, quindi ogni anno l'ho rimasto nell'armadio sperando di utilizzarlo, ma poi ovviamente non lo utilizzo mai, ma questo lo mettiamo tra le cose estive. Passiamo a questo appendino, tutina di Zara che uso come copricostume, altro copricostume e altro copricostume, questo nero di twinset, ok, vanno nelle cose estive. Appendino con questo che è un copricostume, questo che è un vestitino che in realtà quest'anno non ho utilizzato, non so per quale motivo è corto così, perché mi piace molto in maglia di Shane e questo che sì, va bene, lo utilizzo proprio quando al mare non ho niente da mettere, comunque vanno tra le cose estive. Altro mino di copricostumi, non me ne sto capacitando di quante ne ho, comunque questo di FK, questo di un sacco di anni fa, ma che mi piace sempre molto, lo utilizzo un sacco, questo che in realtà non l'ho mai utilizzato, quindi potremmo metterlo su Linted, adesso lo tolgo da qua e lo metto di là, e poi questo qua che è tutto con la fantasia così in stile bandana. Devo cercare di decidermi su alcune cose che veramente mi dispiace comunque non tenerle, però se effettivamente non le utilizzo è anche inutile che stiano ad occupare spazio nell'armadio e magari possono andare a delle persone che le utilizzerebbero di più di quanto le utilizzo io, quindi questo ci saluta. Altri vestiti prettamente estivi, questo azzurro di Zara che utilizzo un sacco per andare in ufficio in estate, questo giallo, stesso discorso di quello di prima, anche questo a fiori e questo qua, diciamo che questi sono quelli che utilizzo appunto in estate per andare in ufficio. Questi sono smanicati, ma come colorazioni non sono prettamente estive, anche questo in similpelle, quindi direi che rimangono qua nell'armadio. Non so se c'era qualcuno che faceva un casino sul pianerotto, lo sono andata a vedere. Comunque procediamo con questo vestito che in realtà sono due anni che non lo metto, quindi forse è arrivato il momento di salutarlo. Questo a Pua stessa storia di quello di prima e poi qua dietro abbiamo questo della Diesel nero basic tubino classicissimo e questo qua che è identico ma di Adidas. Altri due vestiti prettamente estivi, questo di Zara con i fiorellini, e questo che è vecchissimo, non mi ricordo di che brand sia, però non lo so, mi piaceva utilizzato con una cintura in vita anni fa, quest'anno non l'ho mai indossato, quindi non so se tenerlo oppure no, non lo so, ci penso. Questi sicuramente molto molto estivi, sia questo qua bianco con tutto il pizzo sotto, sia questo, anche se in realtà questo non l'ho utilizzato quest'anno. Comunque in ogni caso ci penseremo la prossima stagione perché sono proprio molto molto estate. Stessa cosa vale per questi, questa è una tutina con i fiori, un altro abito bianco e un altro abito a fiori che non tengo qua nell'armadio perché mi occupano spazi inutilmente. Anche questi mi dispiace metterli in box, però in realtà non penso che avrei modo di utilizzarli, viste le due fantasie e la tipologia di vestiti, anche se in realtà vi spoilerò che dovrei fare un viaggetto in un posto non caldissimo ma neanche freddo, quindi già sicuramente avrete capito dove, a gennaio, anche se in realtà forse questi vestiti sono un po' eccessivi, però il massimo posso andare a recuperarli, quindi magari questi li metto giù. Questi sono tutti vestiti sbracciati ma che secondo me con sopra un cardigan piuttosto che un blazer o un giacchino si possono utilizzare anche in inverno, anche se in realtà sono vestiti che hanno un po' di annetti, tranne questo che ha la rosa così, quindi li teniamo qua per ora. Altra gruccia che mi fa molto estate con questo vestito qua che mi sembra sia di quest'anno, di Zara, che ho preso in primavera. Questo è di Zara dello scorso anno, molto molto carino, che si chiude a portafoglio e poi c'è questo in simil raso nero, quelli che sono andati tantissimi lo scorso anno, quindi magari questo lo teniamo perché riesco a utilizzarlo anche in inverno. Questo è un abitino che ho utilizzato a un compleanno di qualche anno fa, che era della collezione di Giulia Delellis, che tra l'altro ho pagato un occhio della testa per essere un vestitino così semplice senza niente, effettivamente il tessuto è buono. Il problema è che, non so se si vede, ma mi è caduta dell'acqua, semplicemente acqua, con delle goccioline, l'ho portato in tintoria, ho cercato di lavarlo in qualunque modo, non è mai andato via, è rimasto macchiato e mi spiace comunque buttarlo, visto il costo di questo abito, però ci sono rimasta male per sta roba, comunque infatti è nella pellicolina, l'ho lasciata nella plastica così, anzi se avete magari una soluzione, un rimedio a questa cosa, perché su questa tipologia di tessuto le macchioline d'acqua rimangono e non se ne vanno in nessuna maniera. Allora, questo è molto molto estivo, ma lo tengo di solito qua nell'armadio, perché non mi va di metterlo giù in box, e poi ci sono questi due marroni, che anche questi sono molto simili tra di loro, cortini così, questo è arricciato dietro, mentre invece questo scende un pochettino più morbido, visto il colore magari riesco a metterli ancora un pochino adesso con sopra qualcosa. Questi li tengo tutti qua, sono un vestito bianco, questo blu di Zara di qualche anno fa, e un tubino nero così fatto con la canotta semplice e arriva tipo sopra il polpaccio, comunque è un vestito classico di Zara, che penso sia un continuativo di Zara. Mi fa ridere perché ogni appendino che tiro fuori ci sono sempre più vestiti attaccati, comunque questi li tengo sempre qua sopra, perché possono sempre servire, questo forse un po' meno, però vabbè. Vestito in tubino nero classico, semplice, morbido, scivolato, identico in verde, e poi c'è questo qui che è quello di Opolli, che ho preso poco fa, che vi ho fatto vedere, mi sembra anche nell'ultimo video haul, che ovviamente sta qua con me, che voglio mettere tipo sempre. Altri vestiti che rimangono qua, perché magari indossati con uno stivale, appunto un blazer, si possono utilizzare tranquillissimamente anche in inverno. Questo qua che è un vestito che ha diversi anni di anni e buy, che ho utilizzato tantissimo, che è un brand che a me piace un sacco. Simil raso così nero e con le balsettine blu. Questo è di Shane, devo dire che però ha una vestibilità fighissima questo blu, e l'ho utilizzato molto, mentre invece questo è il classico, così, con le coppettine morbido di Zara. Questo è un abito che andava, mi sembra, tipo l'anno scorso, due anni fa, qualcosa del genere, che però ho indossato una volta perché non è proprio comodissima questa scollatura, e questo invece sempre nello stesso tessuto, simil raso, semplice, e un pochettino scollato dietro sulla schiena. Questi li tengo qua, non si sa mai. Cioè, in realtà, se vedete che tengo in questo armadio dei vestiti che magari sono particolarmente estivi, è perché negli altri armadi dove metto il cambio armadio non ho tanto spazio come qua, cioè non che questo sia immenso, però magari preferisco tenere qua delle cose che sono un pochettino più estive, che metto meno, piuttosto che infognare tutto dentro negli altri armadi. Questo è l'omino, insomma, l'appendino. Ognuno ho questo, fatemi sapere come lo chiamate voi questo, perché ognuno lo chiama in un modo diverso, a seconda dei vari paesi di dove vi trovate. Comunque, questo è l'appendino dei vestiti del negozio di XOXO, dei miei, insomma. Questo blu, che a differenza di quello che vi ho fatto vedere prima, che era di un altro brand, sta bene addosso, non è troppo scollato e quindi potete muovervi tranquillamente, che non esce niente. E poi i due così in simil raso, questo verde e questo bianco. Non so se avete capito, ma c'è stato un periodo in cui ero super infissa con questa tipologia di vestiti, infatti ne ho di tutti i colori, di tutti i modelli, di tutti. Comunque, questi rimangono qua. Qui abbiamo questo azzurro, che è quello che ho utilizzato a Parigi e al mio compleanno dello scorso anno. E questo, che è l'altro che ho utilizzato al mio compleanno dello scorso anno. E in realtà ho utilizzato molto anche quest'anno. Veramente molto molto bello, ha un'ottima vestibilità. Ha preso su ASOS, perché è un tessuto un pochettino sostenuto, quindi sta veramente bene addosso. Su questo appendino abbiamo questo, che è quello della collezione di H&M per Mugler, che ovviamente teniamo qua. E poi dietro dei vestiti che non uso più da secoli e secoli, quindi magari potrei regalarli quelli che ho messo un pochettino di più. Questo è praticamente nuovo, quindi magari potrei metterlo in vendita. Qui abbiamo questo abito che ho tenuto, ma mi va largo, non mi sta bene addosso. È la taglia più piccola, ma purtroppo mi veste grande qua di coppe, quindi direi che questo lo mettiamo in vendita, perché non l'ho mai utilizzato. Questo è un vestito di Zara vecchissimo, ma che ci sono particolarmente affezionata, quindi lo tengo. Questo rosa vale, secondo me, la stessa roba di questo qua bianco. Magari me li provo dopo e decido di tenerne uno, quello che mi sta un pochettino meglio addosso, e l'altro appunto lo vendiamo, perché sono proprio uguali uguali. Qui abbiamo questo tutto in retina, sempre del negozio, tra l'altro ancora disponibile su XOXO. Vi lascio sotto nell'info box il link del mio negozio online, in caso dovesse interessarvi. E questo che ha un tubino nero semplice, che di solito indosso con questo, quindi sono sullo stesso metto. Su questo appendino altri brillantini, questo che è quello che ho utilizzato a Capodanno dell'anno scorso, che è una retina, tutto trasparente, con le maniche lunghe. E dietro questo di Zara, che è quello che ha il mega fiocco, così, davanti, nero. Ed è una tutina tutta piena di straspaiette brillantini, che potrei utilizzare a Natale quest'anno, effettivamente. Altro abito di Zara, che ho utilizzato, mi sembra un Capodanno e un'altra occasione, è questo rosa, che non ho mai, mai, mai utilizzato, quindi magari questo lo vendiamo. Questo è un abito che H&M ha fatto in collaborazione con Gian Battista Valli, che in realtà anche questo potrei utilizzarlo sotto Natale. È tutto fatto in questa soffa qui, molto molto morbida, svolazzante, e ha qua davanti questo gioco di luci. Questo, se l'avete visto già sul mio canale, è perché mi seguite da veramente gli inizi, perché avevo fatto un sacco di look quando facevo i video di ispirazione per i look, insomma, con questo abito qua. Poi, serie di gonne lunghe, che ovviamente manderemo insieme alle cose estive, perché di queste colorazioni qua non le utilizzo in inverno. Altre gonne che tengo qua, perché queste potrei utilizzarle, questa molto spagnoleggiante, e questa cortina, che è di un brand che si chiama Outra Less, che mi piace un sacco, di cui ho anche un'altra gonna lunga che ho utilizzato per un matrimonio, però non ce l'ho qua, perché ce l'ho nell'altro armadio dall'altra parte, perché è lunghissima e quindi quasi sarebbe rovinata. Altre gonne lunghe, pensate un po', questa in simil raso, presa ultimamente, questa su Asos, e questa che è quella a cargo con i tasconi, tipo parachute, che ha in fondo anche i cosettini per stringerla. Altre gonne lunghe, queste abbastanza estive, quindi vanno in box. Sempre solito tessuto, questa è una gonna lunga, con questa fantasia, presa su About You, poco tempo fa, quindi questa si trova ancora, ma ve l'ho fatta vedere anche in un look su Instagram qualche settimana fa. E questo è l'abito, quello di Zara, di quest'anno, con tutta la schiena scoperta, lunghissimissimissimo, ma anche questo, se mi seguite su Instagram, l'avete già visto indossato, ma l'avrete visto anche nel video haul qua sul canale. Questa è la gruccia delle tutine, tutina di jeans di Bershka, tutina a maniche lunghe, questa fatta così, che è scollata così, con le maniche attaccate del mio negozio di ExoExo, e la tutina, quella che è andata virale l'anno scorso, di Ted Zenith, che ha ancora il cartellino, perché no, non sono mai riuscita a indossarla, visto che mi risulta particolarmente trasparente. Però, non lo so, magari troverò qualche occasione, magari ad Halloween, con sopra un blazer, riesco ad indossarla, vediamo. Se vi state chiedendo perché questo appendino è diverso dagli altri, non lo so, non ne ho idea, anche perché questo è l'unico appendino nero che ho nell'armadio, e quindi non ho idea di dove arrivi. Allora, qua non vi faccio vedere perché, non saprei come tirarli fuori e soprattutto poi come rimetterli su, ci sono tutti i vestiti lunghi. Allora, questo che è un copricostume estivo, per esempio, lo metto giù, questo che è molto estivo, lo metto giù, questo che è quello che ho messo in vendita sul negozio quest'anno ed è andato esaurito praticamente in una giornata, è tutto in retina, così lungo, fino ai piedi, bellissimo, però è tavolo testate, quindi lo metto giù. Questi qua in maglia, che sono un pochettino più pesanti, e anche questi qua di Bershka, quelli con le spalline lunghi di quest'anno, che si sono visti ovunque, li tengo qua perché non si sa mai, magari indossati con sopra un maglioncione, con la gorna poi sottolunga che esce, potrebbero ancora essere utilizzati. Altro appendino identico a quello di prima, con tutti i vestiti lunghi, per esempio questo di Zara, bellissimo, che ve l'ho fatto vedere un sacco di volte, sia qua nei video che su Instagram, lo metto via perché è prettamente estivo. Questo di Twinset io lo utilizzo anche in inverno, con sopra la giacchettina in inverno, magari autunno adesso, con sopra la giacchettina in pelle, e anche gli altri, magari riesco ancora a utilizzarli. Oddio, questo giallo così con la spallina, no, lo mettiamo subito via, cerco di toglierlo. Ok, questi hanno colorazioni un pochettino più autunno-inverno, quindi li teniamo qua. Questo è di Zara, ancora il cartellino, tra l'altro, no, ve lo faccio vedere perché è veramente molto molto bello, e non sono ancora riuscita ad indossarlo, quindi sono abbastanza arrabbiata per questa cosa. Così, sempre lo stesso tessuto di molti altri, si incrocia dietro sulla schiena, è tutto incrociato e rimane tutta la schiena nuda, ed è lunghissimo fino giù ai piedi. Tra l'altro è una colorazione che a me piace molto, non so se mi sta bene per la monocomia, forse no, però è una colorazione veramente, secondo me, molto molto elegante. Altro appendino uguale a quelli che vi ho fatto vedere finora, quindi non sto a rispiegarveli tutti, tolgo quelli estivi, tipo questo, e gli altri li tengo qua. Ultimo appendino che dovrò cambiare perché è assunto una forma a dir poco particolare, sempre vestiti lunghi, questi tutti abbastanza estivi, forse potrei tenere questo, che è quello di Stradivarius che ho messo al mio compleanno, gli altri sono in pizzo sangallo e questo è rosino, quindi molto molto estivi, però questo potrei tenerlo qua da indossare con sotto magari, non lo so, un altro vestito comunque. Questo se ne va con le cose estive. Ultimi appendini, gonne, corte, varie ed eventuali, tolgo quelle estive, tipo questa qua e anche questa, e tengo quelle più scure e nere, questa è quella con tutte le piume che avrete visto sicuramente del brand di Martina Ravotti, che tengo qua, anche se comunque è bianca e vuole piume abbastanza estiva, ma la tengo qua lo stesso. Ho recuperato questi altri due vestiti che avevo in giro, questo che è di XOXO, quindi del mio negozio, bellissimo, secondo me ha una vestibilità molto molto bella, e questo qui che è di Opolli, guardate quanto brilla, bellissimo, questo è veramente molto molto bello, non ve l'ho ancora fatto vedere in nessun haul perché l'ho proprio appena appena preso. Poi vi ho girati di qua per farvi vedere le cose invernali che ho tirato giù da qua sopra, lasciando perdere il disagio qua che è da sistemare. Gonne lunghe, queste, con le colorazioni un po' più invernali rispetto a quelle che ho messo via di là. Ho ricavato anche tutti questi appendini del colore corretto da mettere nell'armadio, così magari riusciamo a non avere 800 abiti uno sopra l'altro, perché li ho tolti dalle cose che vanno giù in box. Abitino con il collo alto in maglia grigio e questo blu che è di Shane, però devo dire che sta molto bene indossato, tutto così arricciatino, ve li faccio vedere veloci perché secondo me sto già sporandoli tantissimo nel video. Abitino di Zara vecchissimo ma che mi piace sempre come fitta, questo non so se tenerlo o no perché non mi sta benissimo addosso, quindi magari questo lo mettiamo in vendita e qua sotto ce n'è uno di Shane tutto nero in velluto. Abiti camice e camiccione che in realtà l'anno scorso non ho tirato giù dal cambio invernale, quindi non ho messo, ma in realtà con uno stivale alto nero secondo me non stanno male, quindi volevo provare a riutilizzarle. Ovviamente gli cambierò l'appendino perché sono già infastidita da questa cosa. Di questi abiti probabilmente terrò giù soltanto questo qua, che in realtà non so neanche se utilizzerò, perché questo rosso non mi fa più impazzire, quindi devo capire se tenerlo o venderlo. Penso di averlo messo un due o tre volte di Zara. Ho ritrovato questa gonnellina qui di mango a quadri, che non trovavo più perché era finita nel fondo dell'armadio e non so perché fosse nell'armadio dei vestiti sinceramente, quindi va con le altre gonne che vedremo in un prossimo video. Questi due abitini sono quelli di Shane che ho preso l'anno scorso, che ho indossato tantissimo. Questo in maglia bianco abbastanza lungo, che sta molto bene con le Dr. Martens, quelle col platform secondo me, e questo qua marrone che anche lui è abbastanza lunghettino, ma ha la particolarità di avere un cutout qua davanti. Ve lo faccio vedere, ma sicuramente l'avrete stravisto se mi seguite su Instagram perché l'ho messo spesso negli outfit che vi faccio vedere comunque prima di uscire, e quindi anche a questi gli cambiamo l'appendino e adesso andiamo a sistemare tutto nell'armadio pregando che ci stia. Allora, devo dire che già a colpo d'occhio mi sembra più invernale e più ordinato l'armadio. Praticamente ho diviso abiti lunghi, gonne lunghe, abiti un pochettino più eleganti, abiti leggermente più estivi, comunque non con la manica lunga ma utilizzabili qua in mezzo, abiti con la manica lunga, e poi là nell'angolino gli ho infugnato una camicia che non c'entra niente e un paio di gonne che anche quelle non c'entrano niente, però nell'insieme mi piace. E tra l'altro mentre sistemavo ho tolto ancora qualche abitino, tipo questi qua, e adesso li metto su con il cambio estivo, che non mi sembrava il caso di lasciare qua. Nel prossimo video sistemiamo tutte queste scatole in cui ci sono dentro felpe, maglioni, tute, cose pesanti, che vanno inserite qua, e questa roba, alcune cose estive, tipo qua sotto le tolgo, come vi dicevo, e alcune cose non lo so, devo capire, devo organizzarmi, comunque nel prossimo video sistemiamo tutto questo disagio. Nel frattempo io mi sono fatta la coda, come avrete visto nei video, perché stavo morendo di caldo, anzi avevo iniziato con la felpa, poi è fortuna che ho messo la maglietta, perché proprio muovermi, eccetera, eccetera, fa caldissimo. Con questo fantastico disagio alle mie spalle, direi che per oggi, vi saluto, anche perché sono morta, e finisco di sistemare le cose di là, che devo portare giù in box, le devo mettere sulle grucce, impacchettare, mettere negli scatoloni, eccetera, eccetera, e quindi io direi che per oggi vi saluto, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Ciao!